Ciao a tutti ragazzi e bentornati con il terzo episodio della Thicken Chill Siamo rimasti qua perché se fosse perso lo scorso episodio ovviamente ve lo lascio in descrizione con tutta la playlist Avevamo trovato la lana purple, però stiamo notando, anzi ho notato, che ci manca la lana white Ora, il dubbio è che, allora lì sicuramente secondo me c'è la lana blu, credo, sono quasi convinto Quindi io direi di tornarcene indietro nel dungeon del primo episodio per vedere se abbiamo lasciato indietro la lana bianca Se non la troviamo, a sto punto veniamo qua e affrontiamo quello schifo merda Però sono molto convinto che sia nel dungeon del primo episodio Perché ho Wither? Cosa cazzo vuol dire ho Wither? Scusatemi, cosa vuol dire che ho Wither? Ho Wither fisso poi, vabbè, lasciamo perdere, torniamo indietro Sì però adesso ho Wither, come mai? Cioè non recupero la vita così immagino, cioè credo Boh, questa cosa mi turba un pochino, ma non so come mai Comunque siamo tornati nel primo dungeon Ora, io avevo lasciato, ne sono consapevole, avevo lasciato Il fatto è che non ho visto incroci, quindi mi sa un po' strano che sia qua la lana O almeno, cioè credo, cioè spero che sia qua Perché comunque abbiamo praticamente masterato questa zona Non siamo qua, no, veramente siamo morti solo qua Quindi, insomma, l'unica cosa è che veramente se fosse qua sarebbe un bel problema Perché non saprei, appunto, la zoo Effettivamente poteva starci Perché io pensavo che questo fosse il buco praticamente iniziale Ma in verità non era così Quindi la lana è lì sotto e dovrebbe essere abbastanza easy prenderla L'unica cosa è che dovrei fare tutto il giro E io faccio tutto il giro perché so già che se faccio le scale da qua La prendo in quel posto Allora, intanto facciamo un secondo e un sopralluogo Ci sono spawner, cazzi, mazzi Non sembra, non sembra Anche perché adesso siamo abbastanza bardanti Ma perché ho il Wither? Cosa vuol dire? Che poi è infinito, non subisco da... Vabbè, no, dettaglio Andiamo avanti No, ha spawnato qualcosa Io metto le torce perché questa me la rascio, non mi interessa Vaffanculo, questa dovevamo già averla presa Perché siccome sono uno stronzo e rasciando me la lascio dietro la roba E me la sono dimenticata Va bene, colpa mia Colpa mia Orcozio ci sono i creeper Va bene, c'è qualcosa, c'è qualcosa Oh cazzo Ragni velenosi? No, sono ragni normalco 2 Quanta gente No, 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 fermi tutti Che qua ci muoio Qua ci muoio Io qua ci muoio, lo so già Di nuovo Riesco ad andarci Spacca, 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 spacca Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto Torni dietro, torni dietro Torni dietro L'ho presa Ok, l'ho presa, siamo salvi Siamo salvi Ma recupero la vita Oh, ma... No, non è il momento di mangiare Se devi andare al Mac, facci dopo Via Ok, fatemi un secondo Sì, vabbè, ma che target hanno i mob in questa mappa? Cioè mi dà 20 blocchi Sì, vabbè, se mi prende da qua Ok, l'abbiamo presa L'abbiamo presa Quindi possiamo posizionarla E possiamo avvicinarci verso Aia Stavo dicendo Possiamo avvicinarci verso l'ultimo dungeon Perché in questa mappa ci sono tre lane E secondo me l'ultimo non sarà così semplice Quindi non credo di finirla oggi Ve lo dico sinceramente Però non si sa mai Non si sa mai Vorrei evitare di fare un episodio corto L'ultimo Se magari arriviamo proprio davanti alla lana Non vorrei stoppare Quindi magari facciamo due lane oggi Però intanto andiamo a posizionare questa qua E da lì andiamo verso il castello Accanto al monumento Comunque vi devo dire la verità Come ho detto nell'ultimo episodio Mentre torno al monumento Non è per niente male questa mappa È in 1.8 Quindi è molto vecchia Per la precisione ha 6 anni Più di 6 anni Perché è uscita nel gennaio 2015 E Non è successo niente Ho solo posizionato la lana Stavo dicendo E non è per niente male Perché le meccaniche comunque ci sono È molto semplice Da questo punto di vista Perché comunque i mob non sono custom Però vi devo dire la verità Per essere una mini CTM Mi sta piacendo parecchio Anche perché io sto registrando Tutto nello stesso giorno Ed è anche piacevole da giocare Non è pesante Per ora Anche perché c'è quel mostro Che grida lì accanto a noi Che potrebbe farci cambiare idea Ora io spero che la lana Una volta posizionata Non perde potere Anche perché si chiama white wool Quindi Non credo Che sia stato un problema Posizionarla Intanto la posizioniamo Qua Subitamente Easy E signore e signori È il momento Il momento che tutti stavamo aspettando L'ultimo dungeon Io so già che sia Oh mamma Era già un delirio il purple Questo qui sarà veramente un delirio Secondo me Abbiamo legno Sì Abbiamo cobblestone Sì Andiamo Andiamo Intanto vediamo da dove si entra Perché non ho visto un'entrata Sinceramente Quindi potrebbe essere già un problema Entrare in questo dungeon Comunque ho constatato Che il leader è solo un effetto visivo Perché mi recupera anche la vita Quindi Not bad Dove si entra? Da qua Ci sono delle scale Perfetto Sento già dei ragni velenosi Perfetto così Easy Eh sì Però non mi puoi fare iniziare così Cioè Eh vabbè Poi Qualcos'altro Ok 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 Devo spaccare quello spawner Devo spaccare quello spawner Metti le torce Metti le torce Devo spaccare anche questo spawner Quello ci arrivo Sì ci arrivo Perfetto Almeno il primo piano L'abbiamo masterato Non è vero c'è un altro spawner Se ci sono tre spawner a piano È un casino Perché Spawna la madonna anche Ok C'è una cassa Cosa ci dà? Il legno me lo prendo Questo non mi interessa Il letto me lo prendo Perché sicuramente dovrò settare lo spawn E anche il cibo Perfetto Allora qua sopra c'è già un casino Io ne son sicuro Che qua sopra c'è già un casino Qui però Vorrei spaccarlo Perché secondo me Qua dietro c'è qualcosa In verità non c'è un cazzo Perfetto Saliamo Vediamo Aspetta mangiamo prima Mangiamo perché Secondo me Qua sopra c'è pieno di mob Puttana merda C'è pieno di mob C'è pieno di mob Io ragazzi Lo affronto in maniera diversa Lo affronto da fuori Io dal dentro Non ho il coraggio Di affrontarlo Eh ma però Sei un infame Che mi hai messo i mob Anche fuori Allora Ok Allora stiamo dicendo No No Ci sono anche le finestrine È finita È finita Vabbè io mi faccio Una scaletta così Da dove è caduto No è da dentro 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 Perfetto Mi ha visto Cos'è successo No ragazzi Questo è un casino Cosa c'è qua Bella Com'è Ma sono tutte uguali Le spade Con un po' di immaginazione No Un po' di immaginazione Eh no eh Allora Ragazzi È un po' un casino Per il semplice fatto che Mi sa Affrontarlo dal fuori O affrontarlo dal dentro Penso sia presso che Uguale Anche perché Secondo me Mi spawnano Anche Ah ma aspettate Ma qua dietro c'è una piazza Tipo Ma fermi tutti Ma allora scusate Che chi me lo fa fare Di passare da qua Cioè qua dietro mi sembra Deve visto che c'è tipo Una piazza Vero Holy shit Però questi scheletri Mi sembrano un po' stupidi All'inizio non mi vedono Vabbè Meglio per noi Comunque meglio per noi Allora c'è una piazza Sì ma ci sono anche gli spawner Non attivarti Spawner di ghast Non attivarti Non attivarti Non attivarti Per l'amor di dio Non attivarti Ti scongiuro Per favore Rimani lì così Grazie Sono due spawner di ghast Porca troia Ok ma Dov'è la lana Questo è un problema Perché Se non la vedo già adesso Posso entrare qua dentro Posso È safe È safe È safe Perfetto Ci sono un botto di letti Posso dormire Fermi tutti Fatemi dormire Ok Allora Vorrei salire qua sopra Perché qua sotto Ci sono gli scheletri sicuro Qua sopra secondo me C'è uno spawner di Ah no non è un ghast Oh quanti spawner ci sono Oh cazzo Via 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 No 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 Spacca 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 Uno Due Tre E ce l'ho dietro Ma è stupido quel creeper Ah meglio per noi eh Esplodi No vabbè anche se non esplodi è uguale Come ho fatto Sono un mostro Qua c'è un altro Ok Ci sono altri spawner No Perfetto Quindi qua non c'è la lana Immagino Cazzo quel ghast di merda Che mi mette ansia Secondo voi riesco ad andare dall'altra parte Senza farla attivare Secondo me no Però ci voglio provare comunque Cioè passo largo Anche perché da qua sotto gli scheletri Non mi possono prendere Vero? Non mi prendi da lì Cioè da lì non mi puoi prendere Sei troppo lontano Con un occhio allo scheletro Che se mi mira Devo scappare Non mi vede Strana sta cosa eh Comunque Molto strana Che non mi veda da qua Che sono pochi blocchi comunque Il problema è che se cado è un disabito Come fanno a non vedermi? Ragazzi mi sto cagando veramente addosso Penso sia una situazione critica Anche perché sto rischiando tantissimo Fatemi prendere altri blocchi Ma io posso anche far così però Ora mi ha visto Ok Però se non mi vede Ok Cioè se lo colpisco mi vede Se non lo colpisco non mi vede Ok Ok dovremmo farcela Cioè posso andare tranquillo ormai Dai sì che posso andare tranquillo Lo spawner di gust è attivato? Non è attivato Ok la sto citando in maniera incredibile comunque Cioè proprio impressionante Ok possiamo salire Perché io vorrei arrivarci Però fermi tutti Io non vorrei che lì sopra ci fosse lo stesso bordello Che c'era di là Cioè ne sono convinto Secondo me è uguale Ho finito i blocchi Allora Qua dentro si vede però cosa c'è Fermi tu No non si vede un cazzo Perfetto Allora io ho paura di salire qua Sinceramente ho paura che ci sia uno scheletro Che se mi spara da qua Mi butta di sotto E faccio un volo della madre Ah non c'è niente Ok Non c'è niente Ok Questa cosa potrebbe essere Anzi potrebbe andare a nostro favore Perché io adesso spacco qua dentro Non mi dire che è un castello totalmente vuoto però Perché se no mi vengono già i dubbi Ok non sento mob purtroppo Quindi posso constatare che questo castello sia vuoto Immagino che sia vuoto Però è strano che una cosa del genere sia vuota Cioè dove potrebbe Oddio potrebbe essere lì sotto la lana effettivamente Anzi quasi sicuramente lì sotto È strano però che abbia fatto un castello così grande Con una parte vuota Però io comincio a sentire gente Sinceramente Però non vorrei che fosse tutta sotto Aspettate Non è vuoto forse Vedo degli stone brick Non è vuoto Non è vuoto Non è vuoto Non è vuoto Cazzo no C'avevo sperato eh C'avevo sperato sinceramente Cosa c'è qua dentro Ah finché sono solo zombie Si può affrontare sinceramente Cioè Vai metto qua Mi metto E pian piano li ammazzo tutti Intanto metto una torcia Almeno Vabbè si vabbè Quanti sono Eh vabbè Qualcun altro Posso entrare a mettere delle torce Metto torce Metto torce Metto torce Non mi rompete coglioni Via 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 Ci sono scheletri C'è tutto C'è la madonna C'è anche il signore Via di qua Torna dove eri prima Torna dove eri prima Torna dove eri prima Torna dove eri prima Finito il piccone Da qui mi prendi No Se non mi prendi Vaffangala No qua c'è altro legno Cosa vuol dire C'è qualcosa sotto No Ok Ho finito il piccone Perfetto Devo craftarmene uno Mi è ricomparso il piccone in mano Ma questo è rotto tanto Ok Allora Craftiamoci degli stick E poi a stare qua Voi non so se lo state sentendo Ma sto facendo spawnare Tutto C'è veramente una quantità Enorme di mob Sto facendo spawnare Quindi Non è proprio una cosa ideale Ma Ah cazzo Adesso vado anche più piano Perché quel piccone di prima Aveva efficienzi 4 Comunque la mia idea Secondo me è andare Cioè Secondo me bisognerà andare di là Non so perché Ma ho questa sensazione Ci sono presi tra di loro Perfetto Con questo piccone Che è lentissimo Ci metterò 20 anni di più Mi sa Ok La su c'è una cassa Ma ovviamente Non è la lana Cioè Perfetto Guarda sto infame Che mi punta già Testa di minchia Ma se io salgo così dal soffitto Secondo voi mi prendono? Secondo me no Il problema è che non vedo un cazzo Quello è un problema Vorrei riuscire a raggiungere Quel pilone centrale Perché poi Non vedo così tanti mob Perché per fortuna Prima ho lasciato Ho messo le torci Perché se no è improponibile Questa zona Ok vorrei arrivare A questo pilone qua Ci arrivo con il blocco Yes Ok però Ah ma a parte qua non cado Quindi posso stare anche tranquillo L'odio caccato Effettivamente Dobbiamo stare calmi Perché un minimo errore Potrebbe essere fatale Ok stavo dicendo Io qua Ho visto una staccionata Ora Io non so se Bisogna andare lì sotto Ma Sono più dell'idea Che si arrivasse da lì Perché Col sentiero Tra virgolette Corretto Secondo me si arrivava da lì Ora Io Provo Tanto a tappare qua Che ci sono comunque gli scheletri Faccio una specie di muraglia Perfetto Buono Oh minchia Sto anche finendo i blocchi Cazzo Stanno colpendo tra di loro Questa è cosa buona Ok Qua tappiamo Aia Da dove Da dove mi ha sparato Ehi 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 Da dove mi ha sparato Questo riesco a spaccarlo Secondo me ci riesco Voilà Spacca tutto Ok Ok Oh Là c'è un tunnel Cazzo Dobbiamo andare là probabilmente Ragazzi Io direi di far così a sto punto Siccome mi sembra che vada per le lunghe Probabilmente là dietro ci potrebbe essere la lana Ma non ne sono sicuro Quindi se il prossimo episodio durerà poco Scusatemi in anticipo Io direi che per questo episodio è tutto Probabilmente è stato il penultimo E il prossimo sarà l'ultimo di questa miniserie Fatemi sapere se vi è piaciuto Lasciate un commento e lascia qua sotto Se ancora non l'avete lasciato Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti E condividete il video Noi ci vediamo nei prossimi giorni Con un nuovo video E con un nuovo live streaming Qua domanda è tutto Bella